Salve ragazzi, oggi vi farò vedere come implementare la mod tanto discussa su Starfield del DLSS Intanto vi faccio alcune precisazioni, io l'ho provata Non migliora moltissimo i frame, anzi non li migliora quasi per nulla Però migliora molto la qualità Tant'è che potete abbassare lo scaling dal 75% al 50% che è il minimo E ottenere praticamente la stessa qualità E avrete un guadagno di, io almeno una decina di frame Nonostante questo comunque il gioco rimane molto pesante Poi dopo magari questo ne parlerò in futuro quando inizierò a giocare un pochettino di più con Starfield Ma comunque adesso vediamo come funziona Poi dopo vi lascerò tutti i link in descrizione Ci sono due tipi di DLSS, uno che funziona con il Reshade e uno senza Quello con il Reshade sembra un pochettino meglio È quello che poi è uscito al Day One, diciamo il primo settembre dell'Early Access Allora dovete aprire questa pagina qui, di Nexus Mode, poi dopo ve la lascio Dovete scaricare prima di tutti il download che è qui Dovete cliccare su Manual, scaricate il download e scaricate questa cartella qui Starfield Upscaler Reshade versione Queste cartelle qui vanno buttate dentro alla cartella di Starfield Diciamo l'installazione proprio del gioco Starfield Quindi tutte queste cartelle qui le dovete buttare qui dentro Non c'è nessuna sostituzione di file Una volta sostituito, diciamo scusate, messe queste cartelle qui Questi file qui Dovete installare l'AppScaler Base Plugin Dovete cliccare su questo link qui, vi apre questa pagina Fate il download anche di questi file qui E sono questi file Questo qui, l'AppScaler Base Plugin È un file che va messo all'interno della cartella di Starfield Mods Upscaler Base Plugin Qui all'interno Una volta fatto questo Qui ve lo dice Dove noi dobbiamo avere il file del DLSS Che va messo all'interno di quella cartella lì Che è della mod Questo file qui, che poi tra l'altro qui non c'è linkato È questo file Poi dopo questo ve lo lascio sempre tra le descrizioni come link È il primo questo qua su Lo prendete, lo scaricate E lo buttate qui all'interno della cartella Sempre dentro a Starfield Mods Upscaler Base Plugin Poi una volta fatto questo, lanciate il gioco Premete il tasto End Che è quello tra Delete e pagina giù Sulla tastiera Sopra alle freccette Diciamo E vi uscirà fuori questo menu qua In cui potete Potete scegliere poche cose in realtà Quindi vedete che è abilitato E c'è qualche funzione che potete diciamo scegliere Lasciate gli LSS Quella pagina qui che è un po' scomoda da andare Dovete andare su un menu Perché se state in game Se spostate il mouse il personaggio si gira Invece premete il tasto I dell'inventario per esempio E poi lì vi compara la freccettina E andate su questa schermatina qui Che poi la abilitate e disabilitate sempre con End Quando andate sul menu delle opzioni Dove deve essere solo abilitato l'FSR Nient'altro E poi In realtà sarà il DLSS Perché l'avete diciamo sostituito Vedrete che la qualità dell'immagine migliora E potrete calare diciamo L'upscaling dal 75 al 50% Otterrete una qualità più o meno simile Ma guadagnerete di frame Questo è per il DLSS 2 Mentre per il 3 Io purtroppo non ce l'ho Perché ho una 3080 Quindi non posso usufruirne Poi magari in futuro vi farò Una guida anche per quello Ma intanto Utilizzatelo Perché il gioco è molto pesante Poi adesso Devo ancora capire bene Quello che si può mettere o non mettere Per raggiungere il target dei 60 Bene in tutte le condizioni Ma il gioco è veramente tosto Comunque vi ringrazio per la visione Ci vediamo per un altro video